E' certo. Devo dirti una cosa. Hai preso molti sedativi. Si tratta di Clara. Calmati. Calmati. Ascolta, devi saperlo. Calmati ora. E' completamente guarita. Ho sentito che diceva a Christian che procede tutto bene. E che tra circa un mese avranno un bambino. Io non so se puoi comprendere ciò che ti sto dicendo. Hai preso troppi calmati. Va bene. Dormi. Allora, avvocato. La sua causa è conclusa. E lei, dottor Carrier, ne è uscito libero da qualsiasi colpa. La dichiarazione dell'infermiera è stata decisiva per la sentenza. Non è possibile. Mamma non può aver fatto una cosa tanto orribile. Non posso crederci. Clara, Clara, per favore. Ma Christian è mia madre. Si sta parlando di mia madre. Ci deve essere un errore. Mamma non può aver fatto una cosa simile. Signora Carrier. Sarò stata accusata ingiustamente. Signora Carrier. Sua madre ha negato fino all'ultimo momento. Ma poi ha dovuto confessare. Schiacciata dall'evidenza di tutte le prove a suo carico. Sia lei che l'infermiera sono state giudicate colpa. Ti prego, amore mia, cerca di cambiare. Tranquillo. Avvocato. Non dimentichi che ha promesso di occuparsi della figlia di Lady. Non la svegli, Herminia. Ma è impossibile che dorma tanto. Ho fatto di tutto per cercare di svegliarla, ma non c'è stato verso. Non dimentichi che dorma tanto. Non dimentichi che dormi.